La fase 2, ma ad oggi abbiamo ancora nuovi casi ogni giorno, un po' in tutte le regioni e abbiamo tutta una serie di indicatori che ci mostrano che sta migliorando la situazione anche rispetto alle persone ricoverate, soprattutto nelle terapie intensive, ma comunque abbiamo una situazione quotidiana con dei nuovi casi che vengono individuati. Siamo dunque ancora in fase epidemica. Le parole del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera spengono i facili entusiasmi. Secondo Brusaferro, insomma, il virus si diffonde nella stessa maniera dell'inizio, ovvero prevalentemente per droplet. Per questo, ha spiegato, sono due gli elementi da tenere sempre sotto controllo, l'ormai famoso indice di contagio R con zero e la sostenibilità del servizio sanitario. La loro valutazione è importante per stabilire se le misure prese siano o meno sufficienti. Nel corso dell'audizione Brusaferro ha poi affrontato anche il tema dell'app, sapere quante sono le persone immuni nella popolazione è fondamentale. Oggi sappiamo, ha affermato, che la percentuale è molto bassa con delle variazioni tra regioni, ma globalmente siamo molto lontani dal 70-80% che sono le soglie della cosiddetta immunità di greggie. Un obiettivo che si potrà raggiungere solo con il vaccino, ha concluso il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale, d'ora in poi, dovranno essere garantiti tutti i servizi sanitari che nella fase 1, inevitabilmente, sono stati sospesi o limitati.